L'ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni continua nell'azione di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio dunale dell'area marina protetta Santa Maria di Castellabate. Infatti, sono state avviate delle attività di riqualificazione per la salvaguardia della duna alla frazione Lago di Castellabate. Progetto condiviso con il Comune di Castellabate prevede la rimozione di piante infestanti che impediscono lo sviluppo e la sopravvivenza delle specie autoctane. come il Giglio Marino. Sarà stabilizzata anche la duna costiera tra il piazzale dei Rocchi a sud e la strada pubblica adiacente la Perla Bianca a nord, attraverso la pose in opera di Viminate. Infine, a completare l'opera, l'installazione di una passerella in legno rialzata per l'accesso alla spiaggia.